Tutti si aspettavano dal Ragusa un riscatto, anche una prova di orgoglio. Il riscatto è arrivato invece per l'atletico Catani che ha affondato gli azzurri grazie ad una doppietta di Da Silva e per la formazione di Ragite è stata nottefonda. Un Ragusa che si è trascinato in pratica a Catani e tutti i suoi problemi di scarsa affiatamente e mancanza di identità, pagando Dazio per la quarta volta in otto partite. Ragusa adesso penultimo in classifica insieme a Ladrano e col fanalino Realaci che sarà il prossimo avversario. E mentre la formazione di Raciti si lecca le ferite per il traumatico a via di stagione, il Biancavilla continua a volare. Ieri vittoria col brivido sul Giarre dal primo all'1-2 della capolista nel primo tempo, ma nella ripresa è venuta fuori la formazione di Mascare che ieri esordiva in panchina, che ha accorciato le distanze e poi tenuto sulla corda fino al termine i locali. Ma ieri è stato il fattore campo a stradominare, visto i successi dell'Avola sul Paternò 1-0, del Camaro sul Caltagirone 2-0, del Rosolini sul Città di Messina per 2-1, del Città di Sant'Agata sul Realaci 3-0 e del Pistunina sul Sampio Decimo per 1-0. Unico pari quello per 1-1 tra la città di Scordia e Adrano. In promozione invece Marina al settimo successo su otto gare. Ieri travolta l'Avola con un punteggio tennistico 6-0, alla sua ruota a 5 lunghezze il Santa Croce vittorioso per 3-0 sul campo dell'Erg.